Chiude l'ospedale di comunità di Brisghella a causa del coronavirus. Quattro operatori infatti sono stati contagiati dal virus mentre sono in corso gli esami sui pazienti, al momento per fortuna pochi e bisognosi di interventi di bassa intensità clinica. Qualora i pazienti fossero negativi verranno dimessi e potranno tornare a casa. In caso contrario sarà necessario un ricovero in una struttura appositamente allestita per i pazienti covid. Nel frattempo tutti i professionisti che sono entrati nell'OSCO in questi giorni sono stati sottoposti a tamponi, in particolare i medici che operano nella adiacente in casa della salute ad assistono i pazienti dell'ospedale di comunità in caso di bisogno. La chiusura della struttura è stata stabilita nella giornata di martedì di comune accordo fra l'azienda sanitaria e l'amministrazione di Brisghella. Ora tutto il complesso verrà sanificato poi dovrà attendere le due settimane per la riapertura. Quel che più preoccupa però al momento è capire come il contagio sia entrato all'interno dell'ospedale di comunità considerando che gli operatori che vi lavorano quotidianamente come tutto il personale sanitario dipendente è sottoposto a periodiche verifiche. In queste ore sono in corso le indagini epidemiologiche per cercare di risalire la fonte di contagio. Nei giorni scorsi AUS e l'amministrazione comunale avevano già dovuto sospendere l'attività didattica alla scuola primaria pazzi a causa di diversi casi di positività e di rotare tutta l'attività sulla didattica distanza. Grazie.